Si tocca che stai lì a pensare, niente, ecco, qualsiasi cosa capita dobbiamo andare avanti, ma abbiamo bisogno di quella forza. Diretta, prossima, prossima, ah no, the last session, ecco, the last session, the last session of the year, 23, 2020, 3, 2024, ecco, I need to relax, ah ciao, 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 ciao Regina, oh oh oh, stai facendo cozin, Oh, oh, oh oh, eh oh oh, hiasi, non lo facendo cozin, oh oh oh, nasoote, por�arnas, ci to